Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ancora un dramma scuote l'Italia in queste ore. Un'altra giovane vita è stata improvvisamente spezzata a causa di un malore improvviso, l'ennesimo in quest'ultimo periodo. Una tragedia immane, che ha devastato amici e parenti della giovane, spirata via improvvisamente, senza che vi fosse il minimo presagio di quello che sarebbe accaduto. L'ultimo anno ha fatto registrare un aumento significativo di malori improvvisi in Italia. Il dato preoccupante è che la fascia di età coinvolta da questo fenomeno si sta abbassando in maniera preoccupante. Ragazzi giovani e senza nessuna patologia muoiono improvvisamente nel sonno o in seguito a fulmine i malori. La notizia della tragedia si è già sparsa a macchia d'olio sul web, dove prevale lo sgomento e il rammarico per questa tremenda disgrazia. È stata trovata morta, nella casa giapponese dove si era trasferita per studio e lavoro, la giovane Elisa De Marco, 27 anni, di Tortona. I genitori Angelo e Letizia vivono a Ponte Curone ma sono originari di Castelnuovo-Scrivia. Proprio loro, non avendo avuto da un paio di giorni notizie della figlia, hanno contattato l'ambasciata italiana a Tokyo, che ha chiesto e ottenuto l'intervento a casa della ragazza. Purtroppo è stata trovata morta, ancora ignote le ragioni del decesso ma si propende per le cause naturali. Perché la porta era chiusa dall'interno e non sarebbero stati riscontrati elementi sospetti? Sconvolti i familiari, gli amici e i conoscenti, che la ricordano sul profilo Facebook dei genitori.